eccoci allora io sono andata qua solo per la sua marmellata perché lei fa una marmellata speciale eccoci allora io sono andata qua solo per la sua marmellata perché lei fa una marmellata speciale va lì ciao e sia allora la marmellata di fragole guarda che belle fra la ricetta anche allora per un chilo di fragole ci vogliono 240 grammi di zucchero 100 grammi di limone lasciar macerare per circa sette ore dopodiché far bollire per 30 40 minuti pazienza la se guarda e questo è adesso quanto ci manca lì e credo una ventina di minuti si possiamo attendere la sua marmellata marmellata va ai valli alle fragole bella amore bella amore sia e adesso ne diamo ancora un gatto nooo Grazie a tutti.